Senti un po', si può sapere perché continui a seguirmi e venirmi dietro? Non mi piace niente il tuo atteggiamento, proprio niente! Io sto andando per i fatti miei di lì e sto... Allora vai di là che io vado di qua, no? Sempre dietro, è possibile? Io non vado di... io sono indipendente, io vado... Vai di là allora! Mi ha piacere! Che barba! Profumo? No, insetticida! Cos'è, francese? Elvetico! Ci sente che sta di orologio? Non è per conto mio! Non ti posso sapere, veramente, non ti posso... Per conto mio! Senti un po', procurami immediatamente un telefono, per piacere! Devo fare una telefonata urgente, per piacere! Sono mica in un bar, qui siamo alla tele... So benissimo dove siamo, procurami un telefono, subito! E il telefono glielo, potrei andare in un bar... Sai cosa è successo? No! Ha fatto uno strappo così nel biliardo! Sarà qualche cretino che non sai giocare a biliardo e va nei bar a giocare! Quindi strappa il tappeto ogni volta, certamente! No, questa qui invece è una persona che conosco benissimo, è una persona molto intelligente, e poi molto ricca, anche molto... Si ricordi una cosa, che una persona ricca e intelligente non voglia di fare a rompere i tappeti! Dei biliardi! Si ricordi! Che forza che ha questo cuore! Veramente! Lei guardi! Mai! Guardi, lei dice delle frasi, guardi! Non è possibile! Che veramente guardi! Cosa devo guardare? Ma no, ma lei mi ispira, insomma, non vorrei esagerare, lei... Lei mi è ispido! Prego? Ispido! Ma cerchi di esprimerti in modo, in modo comprensibile! Vai a prendermi sto telefono per piacere! Sì, adesso va... Come lo vuole? Sciolto o a muro? Procurami un telefono! Eppure vuole quelli che si fa il numero dove si parla e si sente tutto dall'altra parte? Dall'altra parte dove? Dall'altra parte del muro, al bar! Per piacere, il telefono immediatamente qui! Non ti interessa assolutamente niente! Vado subito a prenderlo! Lei intanto, conti le persone che sono qua, per avere un'idea di... Ma guardi un po' che ho lasciato Pici in un momento molto difficile! Che poi Pici, lei adesso sola, così con la netta lì in casa, lei mangi molto! E' per una persona, no? Ho usato un set di otto chili di pane, un po' di tonno, un po' che mi ha scritto tutte le scatole del tonno! Quante storie! Pronti! Grazie, vuoi sentire, ma... Prego! E' occupato, mi sembra! Chi c'è dentro? Eh? Chi è dentro? Chi è dentro? Chi è dentro? Chi è dentro? Guarda, qui c'è un tempo splendido! Non so come dire... Anzi, a dire di pure non te lo dico, guarda! Ma sì, te lo dico, sì te lo dico, guarda! Cara, qui c'è un sole! Ma un sole? Vedessi che sole! Che cos'è questo sole? Addio, caro, addio! Sarà un tuo amico, senz'altro! Non so, chiedevo fosse un vuoto! E lui parla, parla sempre! Che cosa mi è venuto in mente a me di giocare al biliardo? Quello lì, manca lui, sono andato lì e poi mi ha spento la televisione, mi ha buttato tutto il mio... E allora io sono andato lì... Pagare pago, eh? Perché guardi, io pago, eh? Adesso si tratta di trovare la somma, insomma, però... 22... Sta telefonando fuori Milano... 23... 23... Una brava persona, questa piazza... Pronto? Alfredo? Mi passi la signora? Come dov'è? Dove sei? Cerchi dove c'è roba da mangiare, no? Ma... Sì, allora passami la piscina, dai! Mi fretta! Che forza che ha questo qui, oh eh! Pronto? Guardi che non è facile in questi tempi di avere una piscina... Cosa fai lì Gianni? Cosa fa? Vuol vedere quel cretino di Alfredo mi ha passato la piscina coperta? No! Ma questo qui è veramente un patto! Quante volte ti chiedo a dire che non devi stare lì? Ma guardi, ma come sei fatto? No, non prendi le scuse stupide e banali! Ma me lo sentivo, io... Per piacere, non prendi le scuse, sei licenziato in fronto! Ha fatto bene! È una cosa che mi fa investire, guardi! Ma ha fatto bene il centino della gente che dà di confidenza, guardi, ma veramente, guardi, io sono con lei, veramente! Ma lei lo sa che cosa mi ha combinato la mia piscina? Ha rotto un biliardo! Quattro biliardi! Quaranta biliardi! Quaranta pizze! Mi ha mangiato quaranta pizze! Che brava persona che deve essere! Veramente, guardi! C'ho preso! Ah, qua! E lo ho avuto da un'imbraccio! Ah, qua! Non ti faccia cosa lo dice! Ah, qua! C'ho preso in pieno! Guarda, oi! Wow! Io non ci pensavo ma proprio niente E non ci sarei arrivata mai Ti giuro che ero a mille miliardi E invece tu guarda che scherzo mi fa Cochi! Cochi, sei tu? Cochi, come stai? Come stai? Come stai? Prego, non... Uè, come va? Stai zitto, cosa parli? Stai zitto, per cui ce le lomba... Come ve lo vedete? No, ricordi, forse, where I ever metto you Sa che io l'ho fatto un trappo così nel miliardo Come già ci ricordi? Ah, come, non ti ricordi a San Trofeo? Ma non ti ricordi quella volta che poi è venuto con l'oltre? Sì, vedi, così simpatico! Senta, se la chiusa la piscina! Ah, sì, quella volta ricordo molto bene Ah, che tu è... Ti ricordi a quella volta che ce l'ho anch'io? Stai zitto, per piacere! Sai, perché io non ho molta pratica di donesi... Gli ho fatto giù, lo vado... E poi ti ricordi, quella volta c'è la tua barca... Quale scusi, Dante o Petrache? Te le ho ponato giù e si era chiusa la piscina? Ah, sulle barca Dante! E allora la ricordi, ti amo... Mi fa molto piacere, mi vedi? Senti, vuoi venire vero qualcosa come al bar? Scusi, vuoi venire vero qualcosa? Vengo anch'io, Liana! No, tu stai lì, nessuno ti ha evitato! In combinazione è il mio compleanno che... Non mi interessa niente se è il tuo compleanno... Guarda, non ti paghiamo il tralago, eh! Non mi interessa se tu paghi! Qui non c'è bisogno di soldi, ricordi questo! Andiamo! Andiamo a vedere una cosa, Lora! Vengo! Ha fatto uno strato! Andiamo! Guarda, questa qua me la paghi, eh! Guarda, guarda che questo... Guarda, c'ho qui un limone, gli tiro una limonata... Guarda che questa qua me la paghi, eh! Guarda!